Eccomi qua Mi sono preso la briga di andare a scavare un altro po' Soltutto per prendere dei cristalli Per fare questo E' troppo bello Questi blocchi in questa maniera E ovviamente la stanza della towncraft Che è una mod sulla magia Non poteva che avere questo aspetto Ok, bene Adesso posso posizionare Il tavolo La crafting table E con la scripting tool Diventa un tavolo unico Infatti andiamo qui E possiamo andare a cercare tutto Facciamo così Possiamo andare a cercare tutto Tutto quello che vogliamo Inserendo qua i fogli di carta E qua i vari oggetti Se io tenendo premuto shift Passo sugli oggetti Vedete questi simboli Questi qua Sono tutti simboli della towncraft Quindi se io vado a cercare Qualsiasi di questo oggetto Io vado a cercare questi simboli Che poi Vanno a Vanno a Formare le ricette E quindi le pergamene Qui facciamo così Ed ecco la bacchetta magica Se noi guardiamo Si è messo il La tovaglia verde E la nostra bacchetta Perché è inserita qui Ci sono Questa funziona come una crafting table Normalissima Quindi potremmo Quindi potremmo craftare Anche qua Però Le Diciamo I crafting Che sono Della mod Servirà per forza La bacchetta inserita Al suo posto Perché Alcune ricette Diciamo Hanno bisogno Hanno bisogno Di Vis Vedete This one Current Hold 50 vis Quindi Massimo Possiamo fare ricette Che Per adesso Che Vogliono 50 Di vis Adesso Possiamo anche Ricercare subito Diciamo Possiamo fare subito Una ricetta Visto che Tutto questo L'abbiamo fatto Questi invece Sono Dei frammenti Di Pergamena Che si possono trovare Nei dungeon Nelle ceste In giro Per il mondo Diciamo Allora Cosa Cosa serve a noi Adesso Adesso ci servono Dei fogli E dai Qua mi Mi sono indicato Due torce Così Ok Così mi piace Ok Dovremmo cercare Delle canne da zucchero Per farci fogli Ciao creeper Ecco Fatti uccidere Fatti uccidere Vabbè Muori Muori tu da solo Una mucca C'è una mucca Dammi la tua carne Allora Vediamo Dove possiamo Andare A cercare Mi sa Che l'avevo Viste Però Sono vicino No I punti di esperienza O c'è un'altra caverna Vabbè Da questa parte Mi sa che non ce n'è Perché vicino I laghetti Dovebbe esserci La canne da zucchero Invece no Addosso No Vediamo se Cosa mia Forse nelle ceste Ne ho portate qualcuna Forse Qua non di sicuro No Innanzitutto Invece Volevo Fare una cosa Molto importante Ovvero Premendo Io Comunque O N Possiamo aprire Il menu Della minimappa Questa qui E E Aggiungiamo Un waypoint E Lo chiamiamo Casa Così da Non Poi potete Scegliere il colore Involato Io voglio il bianco Così da Non potervi perdere E Se andate Lontano da casa Cioè quel punto Questo cubetto E' settato Come Casa vostra O quello che Volete Così diciamo Non ci perdiamo Sappiamo La direzione In cui andare Allora Vedo nella minimappa Che In questa direzione C'è un fiume Magari Se ci Se ci andiamo Potremmo trovare Le canne Da zucchero Mi pare Che non ce n'è Ah là Le ho viste Là in fondo Ok Corriamo Le ho prendere Le canne Da zucchero Che servono Per fare I fogli Che ci servono Per Fare le ricerche Ci facciamo Un bagnetto Magari Ce le prendiamo Vicino Casa nostra Ok Torniamo Che bella giornata Oggi Il nuovo rumore Della sabbia Quando si Ci cammina Di sopra E' un po' Ambiguo Comunque Tu Mucca Sei nata Mucca E quindi Devi dare La mia La tua Carne Qua devo Togliere Un po' Di Questi Alberi Voglio Che vicino A casa Mia Sia libero Qua ho Levate Solo Le foglie Invece Devo fare Così Poi Le foglie Se ne Andranno Da sole Qua Mi sa Che Un giorno Spianerò Poi si Vedrà Allora Fatto Ciò Possiamo Usare Anche La nostra Fantastica Crafting Table Per fare Non fare Niente Perché Se le uso Adesso Non ne avrò più Per fare Raghi Quindi Direi Di Prendere Il nostro Secchio Andare Andare A prendere Un po' D'acqua Che ce l'abbiamo Nella casa Direi Di farci Un po' Di Un piccolo Orticello Per Le cose Qua Ok Vedete se non si possono Piantare Se non c'è prima Dell'acqua Quindi Uno Due E tre Quattro Che Man mano che Cresceranno Le utilizzeremo Quindi Per adesso Stoppiamo Con la mod Della magia Alberelli Piantali Qua Ok Allora Fa le rose Magari Poi dopo Mi servono Qui Invece Lo sistemiamo Con Della terra Vediamo Se Riesco A farmi Volevo Piantare Delle piante Che ci danno Del filo E col filo Possiamo Farci Uno Zaino Così Da aumentare Il nostro Inventario E portare A presso Più cose Vediamo I semi Si ottengono Distruggendo Le erbacce No Questi Non sono L'avevo Già Fatto L'avevo Già Fatto Dove C'era La Scorsa Casa Mi sa Mi sa Che per Adesso Non vuole Ne Bestava Anche Uno Non è Questo Quello Nemmeno Mi da Solo Semi Quelli Sono Semi Normali Che sfortuna Proprio Che sfortuna Vabbè Lasciamo Aperto Così Anche La scusa Per Mi da Solo Semi Di Mais Di Grano Bravo Si Chiama Non possiamo Fare Ricerche Per Adesso Però Possiamo Farci Il Questo Qua Guardate Se io Prendo Il Libro Se io Prendo Il Libro E Clicchiamo Col Destro Prendolo In mano Possiamo Farci Il Crucible Che si Fa come Con Un Calderone Semplice Di Minecraft E La Bacchetta Qua Sembra Il La Spiegazione Andiamoci a fare Subito Che cosa Con Sette Pezzi Di Ferro Qua Ne abbiamo Solo Cinque La Cosa Bella Del Progetable Che Inserisci Le Cose Però Non Cadono Giù Qua Abbiamo Altro Ferro No Però Possiamo Farlo Subito Stai Iniziando A finire Il Carbone Male Ok Deve Verità Bastava Uno Solo Beh Me ne Servono Due Qua Sarà Finito Il Carbone E Qua Riempito Così Continuiamo Con La Tin Allora Vediamo Se Cosa Riesce A Fare Questo È Spento Perché Ci Serve La Tin Potremmo Anche Cucinarla Nel Nelle Fornaci Normali Ma Perderemo Due A me Me ne Servono Solo Due Quindi Eccole Qua Ok Facciamo Una Cosa Del Genere Così Ok Con questo Facciamo Il nostro Calderone Eccolo qua Che Lo andiamo A posizionare Qui Eccolo qui E con Un Piroettante Colpo di Bacchetta Magica E voilà È diventato Il nostro Calderone Vedete il Calderone Com'è Ci si può Anche Tuffarci Dentro E il calderone Serve a Poi una volta Scoperte le Ricette Creare Gli oggetti Creare gli oggetti Da Della Mangia Adesso La tin Non è finito Ok Possiamo Possiamo Riprendere A fare Quello che stavamo Facendo Stavamo Blah 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 A fare Quello che stavamo Facendo Quindi Il machine frame L'abbiamo Fatto Mi sa Di Si Eccolo qua Poi cosa Serve Questo Due vetri Un secchio Guarda il secchio I vetri Li abbiamo Finiti Forse Si Adesso Lo mettiamo Qui Questo Qui E il vetro Dov'è Mi sa Che l'avevo Finito No Eccolo qua Allora Qua c'è il vetro Uno e due E abbiamo fatto Il nostro Acqueus Accumulator Che noi Andremo a Posizionare Qua Così Ecco che Già Inizia A prendere Acqua Perché Diciamo Che L'accumulatore Si è messo In una zona In base al bioma Se siamo Nella Nella giungla Penso Raccoglierebbe Acqua Più Velocemente Ma Noi Utilizziamo Questo Trucchetto Di mettere Le due Fonti D'acqua Ai lati E lui Si riempie Velocissimamente In pratica Raccoglie L'umidità Nell'aria Sotto forma Di acqua Ok Adesso Dobbiamo Solo Utilizzare Questi Golden Transport Type Farli Diventare Waterproof Però Mi sa Che ho Finito Mi sa Che ho Finito Che che bussa E qua Entra E qua Ti sistemo Io Mi sa Che ho Finito Il cactus E mi sa Di si Come facciamo Allora Mi serve Il colorante Verde Precisamente Che si Che deriva Dal cactus Quindi cactus Green Che sarebbe Questo Come si può Fare Con Questa Minimum Stone Trasformando Il rosa Cioè Il rosso Il colorante Rosso Vedete Io l'ho Fatto Così Perché Venendo Qua Cos'è Cactus Past Vabbè L'unico Modo Diciamo Portatile Per Avere Ottenere Questo E usare La Minimum Stone Che fa parte Del Equivalent Exchange 3 Allora La Minimum Stone Si fa In questo Modo Minimum Stone Ecco qua Shard of Minimum Che si fa Shard of Minimum Li droppano I mob Possiamo Iniziare A fare L'inert Stone Quindi Ferro Uno Di Oro Come Sempre Il ferro Non ci basta Mai Mettiamo La cuocere Nel frattempo Andiamo In giro A cercare Mostri Da uccidere E' Però Uno E' Te pareva E' Te pareva Dove' Ti faccio vedere Io Adesso Ecco Non mi ha droppato Quello che volevo Scusate Se sono Raffreddato Rimettiamoci L'armatura Che avevamo Trovato Altri Un creeper Uccidiamo Questo creeper Ah ti aspetto Dai Uno E non ci da nulla Ma che cos'è A me servono Dai con questi Shard Mi servono Ecco Da di peggiorno Quando mi servono I mob Non ce ne so mai Ah c'è uno Scheletro Ah che cos'è Questo lag Quindi Mi sa Che non ce lo possiamo Fare Anche mi posso andare A cercare il deserto Con i cactus Però c'è sempre L'ombra Degli alberi Che mi fornisce Mob extra Di giorno E allora Questi lag Oh Avete visto Ce l'ha dato Lo zombie Poi Ce ne servono Otto Per fare La shard of Minimum E la La minimum stone Cioè Volevo dire Oh Guardate Quanti ce n'è Forse è un dropporano Non lo so Questo non me l'ha dato Vieni qui Vieni qui Dove sei Ah ti stai nell'acqua Ti fai il bagnetto Niente Niente di niente Possibile Mai possibile Ah quest'albero Ce lo prendiamo subito Che è l'albero Della gomma Poi in un futuro Ci servirà Cioè in teoria Mi servivano Ecco Quello L'alberello Questo Dov'è Questo qua Che non riesco a prendere Buttiamo Viene i semi Che non ci servono Togliamo qua Un po' di foglie Ok Adesso Vediamo se Riesco a prendere Quei famosi semi Niente Sempre semi Che non mi servono Dico io No Mi servono Quei semi E quei semi Non trovo Ah questi Oh Questi qua Sono i semi Che cercavo I flacc Flaxseed E poi anche Cercavo Questi fiori Qui Che sono Gli indico Flower La leader Non ci serve Per fare i libri Adesso buttiamo La terra E poi Si vede Quindi Con questo Facciamo Questi qua Questo colorante Qui Oh Finalmente Quello non ci serve Questo si Vi faccio vedere Dopo Che cosa Che cosa serve L'indico Flower Il fiore Indaco Vabbè Direi che Due Flaxseed Mediadati Sono Mezzo Contento Mezzo Che ne volevo Molti di più Ma siccome La pianta Ne da tanti Una volta Che Cresce Ciao Vegora Allora Seguiamo Vedete In fondo Casa 92 Metri Andiamo In quella Direzione Siamo Certi Che Quella È Casa Nostra Geronimo Ah Questi sono Altri Indico Flower Vediamo Vediamo se Riesciamo a prendere Qualcos'altro Eccoli qua Torniamo a casa Velocemente Dobbiamo pure Mangiare Mangiamoci questo Ok Allora La canna di zucchero È cresciuta adesso Ok Torniamo a una E la riprendiamo Perché tanto Adesso Non possiamo fare nulla